numero 5 catena luminosa con 300 led a 8 modalità di effetti adatta ad ambienti esterni e interni in classe di efficienza energetica più 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 grazie al connettore si possono aggiungere fino a tre catene luminose per raggiungere la lunghezza desiderata dotata di funzione di memoria della luminosità ottimo articolo il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso i link in descrizione numero 4 questa stringa natalizia contiene 138 luci led con 6 grandi motivi stella 5 punte albero di natale alce campana fiocco di neve queste luci natalizie renderanno romantica la tua casa ideali per uso esterno e interno la catena luminosa dispone di otto diverse modalità di effetti per il funzionamento sono richieste tre batterie a non incluse nella confezione la scatola delle batterie non è impermeabile una decorazione perfetta per natale o altre occasioni se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 questa catena luminosa e lunga 10 metri a 80 lampadine a forma di palla la catena è alimentata da una batteria o da una presa di corrente le piccole lampadine creano un'atmosfera romantica perfetta per decorare le camere balconi finestre alberi muri le batterie non sono incluse nella confezione il filo in pvc è impermeabile e sicuro dotata di due modalità di illuminazione acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 2 questa catena luminosa da esterno comprende 500 led e ha una lunghezza di 100 metri in classe di efficienza energetica più 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 ha un basso consumo dotata di otto modalità di lampeggiamento controllabili attraverso un pulsante il filo di rame interno è pieghevole in modo da poter modellare le luci della striscia in qualsiasi forma desiderata ideale per decorare giardini cancelli cortili balconi le luci creano un'atmosfera calda e romantica sono impermeabili e resistenti al gelo se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 1 questa illuminazione natalizia da esterno dispone di ben 16 colori e 4 modalità di luminosità attraverso un pratico telecomando con 28 tasti è possibile cambiare i livelli di luminosità la velocità i 16 colori il tubo di illuminazione a led dispone di un alimentatore salva spazio il tubo alimentato a corrente più luminoso e più stabile rispetto al funzionamento a batteria la catena luminosa ha una funzione di memoria ed è impermeabile ottimo articolo puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione